omnibus attualità religione e cultura un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di radio carissimi blu da isabella papiro che vi parla in questo particolare specialissimo periodo liturgico quale quello della quaresima è fondamentale cari amici condividere riflessioni capaci di far ritrovare intensità e nuovo senso la contemporaneità pare essere sempre più rivolta verso il dissidio ed il conflitto eppure l'uomo continua ad avere bisogno di silenzio ascolto di guardare e leggere dentro di sé di cercare e dare amore che diventa una grande sfida dal valore religioso e laico insieme abbiamo avuto la gioia di raccogliere le riflessioni profonde ed intense di don giovanni d'ercole sul silenzio ce le regaliamo come privilegio ascoltiamole e meditiamole insieme cosa significa andare a sentire la voce del silenzio il signore che parla andare a cercare la vera dimensione per trovare nuova forza per rinascere la ricchezza del silenzio don giovanni grazie questa è una bella domanda perché mette insieme un punto di partenza a cui spesso non si fa grande riferimento che cioè è proprio la società del rumore che è quella di oggi che evoca e reclama il silenzio noi viviamo in un'epoca dove il consumismo ha fatto sì che bisogna consumare tutto dai sentimenti alle sensazioni le più diverse che siano positive o negative tutto questo forma nell'uomo un atteggiamento di divisione all'interno in cui l'uomo da una parte vorrebbe tutto e scopre di non avere nulla e questo crea un divario straordinario e bisogna partire da questo divario da questa distanza che si è creato all'interno di noi per riscoprire che l'unica medicina non può essere la parola ma può essere soltanto un silenzio che non è fatto di rabbia perché il silenzio qualche volta è un'attitudine di rabbia ma che un silenzio fatto di richiesta di amore ed è questo che mi ha portato nel monastero a vivere un periodo di tre mesi in assoluto silenzio distaccandomi da tutto ma in fondo ho ritrovato tutto perché nell'ascolto profondo di me stesso ho sentito che in fondo c'era già tutto non avevo bisogno di inventare qualcosa perché noi siamo fatti in modo tale come dice agostino che il nostro cuore cerca dio e non è mai tranquillo finché non lo incontro l'approdo che è l'approdo verso l'amore che parte per una realtà che sembra ossimorica no ascoltare il silenzio però in quel silenzio quanto ascolto c'è quanta ricchezza io direi che c'è più silenzio in una famiglia dove si gridano continuamente è un silenzio negativo e direi anche che c'è meno parola allora per essere più preciso c'è meno parola meno comprensione in una società dove si parla continuamente dove spesso la televisione mamma tv e mamma media tutti i media ti riempiono continuamente di notizie in una forma pervasiva che piuttosto nel silenzio dove tu una sola parola riesce a riempirti lo spazio della tua vita come è avvenuto in tanti santi una grande lezione ci viene dai grandi mistici che andavano a cercare dentro di sé e appunto in una vita solitaria il valore attraverso la preghiera della salvezza dell'umanità i giovani non sono un problema i giovani piuttosto hanno bisogno di passare da oggetti a soggetti della comunicazione quindi dobbiamo dare gli spazi questo mondo di adulti che crea tante parole apparentemente tanti provvedimenti a favore dei giovani toglie spazio al silenzio della riflessione che invece i giovani come relazione come amore cercano tantissimo credo che oggi se ci sono delle persone che attendono qualcuno che gli aiuti a scoprire la bellezza del silenzio sono i ragazzi perché sono stufi senza saperlo di una società che gli dà tutto di genitori che pensano tutto per loro di uno stato che gli dà tutto quanto di un papà che deve risolvere tutti i loro problemi questo è qualcosa che poveri ragazzi li fa rendere un po' infelici perché li fa sentire inutili il silenzio di cui noi parliamo altro non è che la capacità di un papà di non dare dei consigli non richiesti di un papà che aspetta che il suo figlio lo interpelli di un papà che accetta che il suo figlio sbagli senza pretendere che sia il più perfetto di questo mondo di un papà di un genitore che sappiano fare silenzio che sappiano accettare e il silenzio allora diventa un po la cifra di un dialogo che è fatto più di sguardi che è fatto di attitudini che è fatto vorrei dire anche se vogliamo arrivare perché tu sei partita dall'informazione hai detto poi che c'era una comunicazione e poi hai utilizzato una parola che ritorna spesso perché in fondo comunicare significa amare e l'amore non è un sentimento l'amore è soprattutto un dono gratuito quando un papà quando un figlio scopre di essere amato gratuitamente credo che ha scoperto se stesso bisogna aiutarli questi ragazzi non molti discorsi ma qualche gesto una volta ricordo nella mia esperienza di educatore con i ragazzi c'era un ragazzo che era molto irrequieto e anche faceva un sacco di difficoltà e mi ricordo che una volta mostrando per voler mostrare era un ragazzo di 15 anni per voler mostrare che voleva qualcosa davanti ai suoi mi ha offeso pubblicamente ma proprio pesantemente immagino che un professore presterebbe subito ricorso ad una nota no io non ho fatto assolutamente nulla non ho reagito minimamente tutti hanno guardato dopodiché lui si è guardato intorno da solo si è calmato poi è venuto nei giorni seguenti nulla è veramente strano e lui probabilmente si aspettava ancora una reazione si aspettava da me una reazione ma il silenzio era il modo migliore per aiutarlo a riflettere finché un giorno erano forse passati una decina di giorni io all'improvviso davanti a una situazione in cui mi trovo gli ho dato una sberla lui mi ha guardato e mi ha fatto perché io gli ho risposto perché ti amo lui si è messo a piangere e mi ha abbracciato la sberla che cosa ha voluto significare che rompevo la sua paura e rompevo anche il suo orgoglio ferito mi ha abbracciato e ha cominciato a piangere e da quel momento questo è un ragazzo straordinario penso al ragazzo al quale uno schiaffo datogli in un momento particolare gli ha risvegliato il desiderio il problema grosso oggi è il risvegliare il desiderio perché molti ragazzi oggi sono talmente carichi di regali che non hanno desiderio e oggi bisogna aiutare i ragazzi a desiderare cioè bisogna aiutare non solo i ragazzi tutti tutti noi ci dobbiamo ogni giorno aiutare a desiderare e la parola desiderio in greco vuol dire stella una bellissima esperienza che è stata fatta in america in un college dove c'erano 180 ragazzi giovani studenti tra i 16 e i 22 anni per sei mesi hanno fatto l'esperienza del silenzio e l'esperienza del silenzio consisteva in questo che guardavano tutto ma non commentavano andavano per esempio nelle stelle guardavano non commentavano non c'era qualcuno che insegnava qualcosa guardavano attraversavano il bosco da soli nella paura e per un periodo dovevano solo prendere nota di qualcosa dopo sono andati per esempio a visitare i più grandi musei in Europa e in Italia venivano dall'America degli Stati Uniti e insomma hanno fatto le conoscenze più strane senza mai dare commenti alla fine di questa esperienza di questi 180 giovani 100 hanno chiesto immediatamente di essere battesati avevano scoperto Dio nel silenzio incontrando la bellezza degli opere di Dio e quegli altri che non hanno richiesto il battesimo però hanno cambiato attitudine cioè hanno scoperto che c'è tanto da vedere e tanto da stupirti che riempie il tuo desiderio e il desiderio è sempre un silenzio colmo di una ricchezza infinita che è appunto la voglia di essere amati per concludere potremmo chiusare dicendo che il silenzio è davvero la vera fonte della vita della gioia, dell'amore se noi parliamo di silenzio parliamo dell'infinità di Dio la parola creare con cui si apre la Bibbia, l'Antico Testamento all'Eco con il Nuovo Testamento, con il Prologo di Giovanni nel silenzio la voce, il Logos che non vuol dire la parola, che vuol dire il senso della vita creazione dal nulla, rigenerazione con il senso della vita tutto avviene nel silenzio dell'ascolto per diventare parola di speranza decisamente delle riflessioni profonde che porteremo davvero dentro il nostro cuore a tutti gli ascoltatori di Radio Caris in Blu un cordiale saluto da Isabella Papiro Avete ascoltato Omnibus Attualità, religione e cultura